e anzi qui tra noi c'è chi è oggetto quotidiano di attacchi, di violenza e fatemi approfittare per abbracciare Laura che in questi giorni, in queste ore, per il mio signor Orca, è stata oggetto di un attacchi violente, guardatevi. E tutto si tiene, perché quegli attacchi non sono attacchi alla persona, ad una persona, stanno dentro un clima, delle condizioni climatiche che si sono determinate in questo paese e che hanno generato e generano vicende drammatiche come quella di Macerata, stiamo dentro quel brodo, quel contesto, quella fotografia, quindi noi abbiamo ben chiari quali sono i nostri valori.